Siccome la morte dicono che non esiste, me l'ha detto la Margherita, non perché lo dicano pretina, mi disse, perché te lo dico io, perché me ne intendo più di loro. La morte non esiste, le cellule umane sono indistruttibili. Ora io a volte quando vado a letto la serata, dico se muoio vado a vedere la Fiorentina un'altra domenica. Eh? O no? Non faccio male?